Posso rubarvi un minuto in video? Che venite dalla Svizzera? Posso inquadrarla? Prima ho raccontato uno che viene da Stoccarda, è vero che non è lontanissimo, perché Salerno non è vicino a Mantua, però è assolutamente straordinario. Ma quanti siete dalla Svizzera al di là di oggi? Oggi tre, nel gruppo è una trentina. Che abitualmente si sposta? Spesso, qualcuno si sposta. E dove vivete? Questi trenta dove vivono? Un po' spazio per tutta la Svizzera. Tedesca, italiana, francese? No, tedesca e francese, l'italiana non c'è nessuno. La Zurigo, Basilea, Lausanne, Ginevra, un po' dappertutto. No, sai, io sono di Reggio Emilia, per carità, il Sassuolo è il contrario, cioè sì, ha qualche tifo, sì, però... 12 tifosi. Ieri ero a Modena Cittadella, sono andato a raccontare quelle di Cittadella, poi sono arrivato tardi, erano 155. E come vivete in Svizzera? Posso inquadrarla o non vuole? No, 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 vi ho pubblico su... Come vive? Come vive in Svizzera? Beh, grazie di cuore. Oltre i confini, meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso. Quindi, dalla Svizzera direttamente. La religione, il popolo proprio, il popolo dei... Dalla Svizzera. Svizzera, Germania. Beh, insomma. Famiglia.